La CEDU condanna l'Italia perché negli ultimi mesi di carcerazione di Provenzano l'avrebbe tenuto in carcere nonostante una lattia, quindi sarebbero trattamenti inumani e degradanti, come commenta? Io rispetto questa sentenza, non la commento, voglio semplicemente sottolineare che il 41 bis non si tocca, questo è il punto. Su questo c'è una lunga storia di confronto con l'Europa, siamo disposti a confrontarci, ma dobbiamo dire una cosa che è evidente, tutto il mondo, non solo l'Europa, ha soltanto da imparare dall'Italia in termini di normativa antimafia, perché noi abbiamo le leggi più all'avanguardia che hanno dato i migliori risultati, quindi non entro nel commento della singola sentenza, però sia chiaro che il 41 bis non si tocca.